mezzogiorno di focus tranquilli dura focus è solo mezzogiorno di focus buongiorno buonanotte buon pomeriggio è come ocus pocus è come ocus pocus quanta euforia euforia e disforia pronti a ripartire con questa nuova puntata di mezzogiorno di focus non abbiamo concorsi giochi queens niente non c'è niente oggi dirvi spaventare si ma vi spaventerete con questa puntata è molto molto sì davvero sì 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 non per quanto mi riguarda oh c'è paura ce lo dimostri allora professore io vi parlo di sport quello che è stato un anno un'estate caratterizzata dalle olimpiadi noi siamo andati a pescare noi io e la mia redazione pensavo a pescare alcuni momenti divertenti non solo delle ultime olimpiadi ma anche di quelle precedenti e vogliamo condividerli con tutto il nostro pubblico andiamo vediamo facciamolo allora oh questo è un momento di un giudo è stato squalificato perché c'era il telefonino addosso ma non si va col telefonino magari non sapeva dove metterlo scusa forse aveva delle urgenze a casa forse faceva i video ah bello poi su instagram e qua invece tra i due litiganti diciamo che no ma perché io spero che gli abbiano dato una medaglia guarda come ci dà è un grande l'arbitro proprio perché per essere ma guarda lì per fare da arbitri in certe discipline e il guile di street fighter 2 il calcio volante poi spinge anche i suoi colleghi tra l'altro un calcio precisissimo proprio eh complimenti ha vinto la medaglia d'oro ha vinto la medaglia d'oro sì 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 un applauso dire nell'arbitraggio o nel no nella competizione sportiva all'ospedale sì 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 andiamo avanti e qua abbiamo del salto ad ostacoli questo sempre difficile uno che farli saltare tutti niente c'è uno che la sta pregiando poi cade e prosegue nella corsia altrui perché va bene così ma sì l'importante è arrivare in fondo ha vinto non so se ha vinto però si è distinto non so se avete notato all'inizio come li fa saltare gli ostacoli senza neanche tentare di saltare ma tra l'altro mi credo ma dove gareggiano che sono dei palazzoni dietro nel giardino tra due case come li fa saltare quegli ostacoli ci sono delle penalità per farli saltare no c'è un premio un premio c'è un premio è l'abbattitore di ostacoli ah ok che bravo però è comunque un modo originale questo mi sono sempre chiesto no che cos'è questo può succedere riguardatelo perché merita siamo al lancio del peso femminile se non sbaglio no e indoor malissimo lì si stava un mi sono sempre chiesto ma può succedere comunque ragazzi il lancio del peso indoor il passo successivo è il giavellotto no eh si ma non lo vorrei provare il giavellotto vuol fare il giudice un posto vacante come facevano gli antichi greci no 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 grazie e qua siamo al salto vai veiga vai veiga contro i mostri lanciati da veiga esatto esatto vai veiga vai vuole la concentrazione poi si parte vai il pubblico batte le mani ma collega parte ce l'ha scritto sulla maglietta sta aspettando lo spar ecco 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 lo stacco al punto giusto però nonno l'ha presa bellissimo l'ha presa un po' male è morta l'ha presa un po' male però insomma è tutta questa preparazione per poi tutta questa preparazione e poi lo stacco lo stacco non è un po' e poi è andata un po' giù così è andata un po' giù così ma sei mai rialzata? ah sì si è rialzata si è rialzata con i suoi tempi e poi tuffi belli tuffi belli questo poi è difficile molto complicato scenografico questo sì sì bisogna alzarsi in verticale no mi butto così allora però non ha alzato una guscia infatti quindi io direi tutti dieci è andata giù benissimo ha detto già che sono lì lo faccio bene secondo me era voluto forse il coefficiente di difficoltà non è altissimo però beh no ma che ti trovi cioè prendi anche la giuria di sorpresa l'ingresso in acqua però veramente notevole sì lei Rossini si tuffa così? no io a bomba io l'unico tuffo che sai il giudice preferisce giudice di lancio del peso o giudice di pratiche tipo pugilato giudo il secondo così posso dare dei pugni come abbiamo visto un ragazzo problematico perché lo hai già detto tra l'altro è la sua sigla ma sa che è ripetita Juvent o Juve grazie dell'aiuvamento allora io chiederei al nostro regista solitamente piuttosto incapace di mettere in onda l'immagine che ho proposto che dice il singolare? guardate sono dei bellissimi pistacchi i pistacchi a chi non piacciono i pistacchi a nessuno a nessuno sono bellissimi se solo costassero un po' di meno ne mangeremmo probabilmente ma sono di Bronte? io non penso che Bronte abbia questa produzione tale da cari amici parliamo di pistacchio rientrava nella dieta di rock io mi ricordavo le uova il pistacchio fa bene ma no è che il regista fa cose a caso questa musica non c'entra niente anzi se si può glissare per piacere allora questo è un po' meglio allora va bene ho detto che va bene ho detto un po' meglio allora cari amici amanti dei pistacchi di cosa parliamo oggi? parliamo di matematica quanti fogli ha? è uno è uno stampato tra l'altro è scritto carattere 8 tra l'altro c'è una mentuccia oltre ai pistacchi vedo allora parliamo di matematica e parliamo anzi di due scienziati due fisici Ruben Zachine Michel Benzachen delle Colle Benzachen così si chiama c'è Benzodiazepin non c'è magari delle Colle Politecnique di Paris questa si l'era preparata benissimo cosa hanno fatto? vi giuro sono Ruben Zachine e Michel Benzachen ci dica un po' che cosa hanno fatto e cosa che vedete allora che cosa hanno fatto? erano lì probabilmente a chiacchierare in un bar mangiando pistacchi e devono avergli portato dei pistacchi perché due ricchi come si dice pistacchi in francese pistacchi adesso vado a vedere e hanno cominciato a interrogarsi ma qual è qual è la forma giusta di una ciotola che contiene pistacchi e soprattutto e soprattutto quale deve essere la differenza tra la ciotola che contiene i pistacchi come li vediamo in foto chiusi e quella che deve contenere solo i gusci ma questo dopo quante virre loro hanno fatto un esperimento e hanno scoperto che i gusci se sono sistemati in modo compatto cioè uno dentro l'altro così a cucchiara esatto la ciotola deve essere più grande dell'altra poco più della metà lo 0.57 in più se invece i gusti vengono sistemati alla rinfusa alla carlona ad mentulacanis il numero aumenta e siamo circa allo 0.73 accidente ma mia perché qual è il problema che è una tematica interessantissima perché i gusci sono esattamente 2 per n che è nel numero dei pistacchi la caponare alla pelle sti francesi non potrebbero ridarci la gioconda invece di fare queste cose con i pistacchi è solo se lo chiede Rossini perché non paghi non paghi zaken e ben zaken non pagano i pistacchi hanno messo a punto anche un modello matematico approssimando i gusci dei pistacchi a semisfere cave ricavate dai lissoidi addirittura e calcolando la densità di imballaggio i risultati hanno confermato entro un certo margine quanto osservato con gli esperimenti hanno mostrato che la conclusione è valida indipendentemente dalla forma dei recipienti che bello io sono l'indispensabile ci dice anche qualcosa di interessante no no solo cose così praticamente uno studio sui pistacchi io pensavo che avessero almeno elaborato un modo per aprire i pistacchi chiusi no no questo è solo sulle ciotole su quanto i gusci occupano all'interno delle ciotole pensi come fortunata non conosceva degli scienziati andare al bar con loro esatto sono sgusciati no è divertente come i lupini è come i lupini da domani solo lupini niente pistacchi va bene abbiamo finito? abbiamo finito ah va bene allora vi è piaciuta? sì sì molto bella che risposta è sincera questa nuova stagione è partita pim pum pam proprio e finirà nello stesso modo e finirà nello stesso modo ma adesso è il momento di andare dai nostri mitici vocali volanti vocali volanti vocali volanti vocali volanti e anche per questa puntata ne abbiamo preparati di belli e simpatici vocali volanti che guardiamo subito a partire dal primo eccolo qua basta a questi rari scomodi sì basta a questi abusi la freccia la rimettere il sindacalista degli automobilisti il sindacalista che però forse stava guidando eh ma probabilmente tutto passa in secondo piano quando sei alla grida non metti la freccia e c'è anche ragione c'è anche la freccia è importante stiamo andando a una manifestazione probabilmente probabilmente sì andiamo col prossimo invece io da fuori non l'avrei mai detto che fosse stato rivolto a lei perché comunque uno da fuori la situazione non la conosce chi si ha strutto chi ha stasito facendo ruota chi la mamma rilassata allora all'inizio dice chi te stra e ci sono degli artisti non ho capito bene la parola non conosco la lingua l'idioma non lo conosciamo sarà una roba locale se qualcuno ha bisogno di un aula aula un'altra 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 possiamo risentirla perché scusate secondo me lui stava mimando il suono stava facendo un'altra 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 abbiamo capito poi andiamo avanti ancora quando mi vedono andate a chiedere se ci finisce sicuramente ci viene ci viene ci finisce già ci finisce tutti in torinese ma la tua ex ragazza di Bonannaro che cani c'ha il lupi o il lupo Cesco-Lovacco il lupo Cesco-Lovacco ragazzi Cesco-Lovacco voi lo conoscete il lupo Cesco-Lovacco Cesco-Lovacco fantastico sei monotolo sei monotolo volevo dire rispetto al vocale di prima che infatti una volta c'era la Cecco-Slovacchia poi l'hanno divisa Repubblica Ceca e gli Slovacchi quindi anche il cane è Cecco-Lovacco Stefano è un ragazzo problematico è un monotolo anche lei un monotolo andiamo avanti ancora non so quanti ce ne sono due le hanno due ma quale rosa è mimoso la cattina riccina i capi carciofi di ferro stuto amore la carciofa la fa bene è piena di potassico davvero non è veleroso il potassico no ma no no lei lo confonde col potassico ma è un'altra cosa Danbranga però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo esatto non ce l'abbiamo bisogna andare al comune a richiederlo dove si richiede quel secchio ma non l'ho capito io non pensavo che lo vendessero a secchi ma se buttano via con i venuti male come funziona questa sia una tematica interessantissima però mi piaceva molto ridere monotolo però sì lo so mila uomini c'è non esiste una femmina la mezza tu quando c'è stato covid 80 milioni di persone a protestare l'unica contenta è tu perché ho distanziamento se poteva avere c'è incredibile non parlare dei primi tempi quando ci siamo messi insieme i primi tempi trovassi i messaggi che la florinda ma chi è sta florinda chi è sta florinda come si permetterà dopo tre mesi capite che ero soro vabbè ce l'aveva con la sorella però io lo potevo dire anche prima che era sua sorella prima di tre mesi sì in effetti sì ma sai il primo periodo magari sì ci sta un pochino più di gelosia mi ha telefonato ascoltate bene questo messaggio il virus è partito dalla città di Wuhan ok è girato tutto il mondo si manifesto con alcune particolarità tra cui gli starnuti quindi sentirete persone che fanno di conseguenza dovete stare attenti sì perché è un virus che è partito da Wuhan e si manifesta con Echù quindi è one Echù è questa ragazzi era un grande applauso questo è il genio questo è il genio bravo va bene abbiamo finito abbiamo finito bella bella un gran bel finale bellissimo però dobbiamo chiudere velocemente perché dobbiamo andare a mettere non abbiamo messo il bidone di sotto no e così abbiamo finito questa questa puntata è monotola finché non arriva è monotola sempre in realtà io faccio apposta abbassare il livello per permetterle di fare questo tutto studiato lei verrà ribagato c'è chi pensa gli togliete quel tastino perché le stai davvero abusando lei con del potrassico la premeremo torneremo pieni di potrassico la prossima settimana io non so se torno ciao buonanotte mezzogiorno di focus buonanotte 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 grazie